mi faccio oleg se ci sono i fulmini scappiamo scappiamo in macchina e sai che qua picchiano giù che fanno paura ma guarda lì un attimo christian cosa non c'è scritto un cazzo vedi il monte dimmelo che te lo dico lo cercavo pure io aspetta non c'è il monte maniva c'era scritto una volta a maniva ma io cercavo anche un altro che era verso quelle parti dico non mi ricordo cosa eh non mi viene in mente però dovete dimmelo che te lo dico c'era uno che ci ha segnato da qualche parte ma c'era segnato prima non c'era altro c'è il ruffione c'è e come si chiama quello del piano di neve eh come si era quello c'era scritto anche quello una volta però non c'era scritto dovevamo fare come c'era su su alcalde